il sentiero del cacciatore ed eccoci qua con cinque vite e i comandi più scomodi che mente umana potesse partorire allora che cosa vuoi dimmelo grande saggio scimmiesco credo di aver sentito bene ma credo abbia scorreggiato la scimmia il gorilla pardon non sia mai che si offendano ok per un attimo pensato perfetto va bene guarda mi va benissimo preferisco aver preso quello piuttosto che la vita i comandi ste zone qui sono terribili sono veramente orribili mamma mia ok non mi serviva però va bene grazie dove è finito ma a parte che ti si è lanciato nel momento giusto e si è comunque morto lo ripeto sto gioco è brutto è brutto me l'avete chiesto anche in live se il gioco mi stesse piacendo la risposta è no mai ma proprio zero grazie wow una banana che bello guarda era esattamente quello che volevo però stranamente l'aquila sapevo benissimo come evitarla era palese che avrei dovuto aspettare il momento adatto per saltare comunque tieni mamma scimmia grazie al cielo allora ma e si allora ti dan allora io ti giuro questa cosa ancora non l'ho capita e me l'avete spiegata che devo fare i percorsi alternativi delle scimmie tutto il resto però zone del genere non sono neanche selezionabili o sbaglio vedi guarda che si gira proprio non gli frega niente il cerchio io credo che serva per loro ma solamente quando ti rifai il percorso wow che grande sfida guarda io faccio del sarcasmo per evitare ogni volta di insultarlo però cavolo ce n'è ce n'è veramente tanto da tirare qua ma vabbè guarda quando dicono che veramente le cose vecchie erano meglio ok meno male sa che per un attimo pensato che non ce l'avremmo vai non so che stai aspettando il momento giusto eh ah no aspettava che arrivassi qua madonna mia ma io ci arrivo qua giusto perché capisco sì ma è molto probabile che la scelta migliore sia evitare calmo dio mio tu e le tue reazioni senza controllo io ti giuro lo sapevo perché stava andando troppo lento stava andando troppo lento rispetto al salto che doveva fare sapevo benissimo che non ce l'avrebbe fatta ok calmo perfetto almeno la vita l'abbiamo presa non che ci servisse però avevo già capito che non ce l'avrebbe fatta farlo il salto ma poi come ti giri come ti vabbè guarda io l'unica cosa perché mi vengono proprio istintive col cuore queste reazioni voi so che probabilmente vi scoccerete sentirmi solo sbuffare su sto gioco ma è l'unica reazione spontanea che mi viene ogni volta i comandi le animazioni le tutte bruce le tutte bruce proprio ma brutto 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 mamma mia ok c'è una vita di sicuro strano strano dammi le liane brutto pazzo ecco qua grazie allora una vita è la prendiamoci le liane che le liane si le lance che non si sa mai ok ci arrivo una domanda non è tanto se ci arrivo ma dove qui ci arrivo c'è sì ci arrivo ok perfetto pazzo calmo allora vediamo se c'è un'altra vita nascosta no c'è una banana io lo sapevo che sarei nell'unico punto in cui non dovevi andare io lo sapevo che tu saresti andato in quell'angolino non scriptato ad ammazzarti ma se gli lancio una lancia guarda ci ho sperato e per fortuna mi ha anche dato una risposta positiva per una volta sto gioco ok e tra l'altro ho notato una cosa carina per una volta faccio un complimento ho notato una cosa carina se andiamo sul cadavere dove abbiamo lanciato la lancia prima che scompaio la lancia la riprende questo è un dettaglio allora calmi un attimo prima prima di eh vabbè guarda volevo andare dalla scimmia a vedere che se mi diceva se faceva qualcosa ma pure le animazioni bloccate cioè non mi ha fatto neppure tornare indietro va benissimo ma sì però devi farlo prima che parta ok aspetta è scomparsa perché l'ho vista era finita qui madonna mia che batti il cuore assurdo dio mio sono piccoli problemi di cuore alto che d'amore cos'ha lanciato ah le le bolas sì 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 guarda che fa pure l'ognorri non riesco a prenderlo ecco tiro gli un calcio un pugno nelle balle allora aspetta scimmietta ok vita recuperata scimmietta presa ma ok no per un attimo mi è venuto il dubbio terribile ho detto non è che dovevo lasciarla la scatola se lo adesso non si aggrappa adesso non riusciamo a passare moriamo dio mio perché no qua ho sbagliato io ho pensato ho visto la liana da lontano detto no è la liana è la liana quella dove mi devo dove devo saltare invece no cioè l'ho capito subito quando ho sbagliato l'ho capito nel momento esatto in cui ho sbagliato che avevo sbagliato oddio mio vabbè dai per fortuna non eravamo troppo lontani dai ok per fortuna ogni tanto una vita non ti dico regalata però un pochino si brutto stupido pazzo ammazzala vabbè c'è tarzan fai quello che vuoi fai quello che vuoi scappiamo va non vuoi lanciare la lancia non sarò più veloce di una pallottola però sono più veloce tarzan no no eri pure aggrappato e l'uomo scimmia ma tra l'altro cosa succederà nel momento in cui si avvicina secondo me c'è coltella qualcosa di simile tarzan maledizione ecco l'unico modo per colpirla la gente che è ferma è restare fermo pure tu io ti giuro non capisco se sbaglio io con le lance oppure stupido lui veramente perché qualcuno ha detto nei commenti e l'ho pensato anche io non lancerà la lancia se c'ha il cucciolo ma anche l'altra volta è successo che avevamo il cucciolo è comunque lanciato vedi che scemo aspettiamo che finisca i colpi almeno ce ne andiamo con la vita piena scusami è l'ultimo perfetto andiamo via qualcuno mi ha detto che non potevo lanciare la lancia perché c'ho il cucciolo ma secondo me no secondo me no invece perché anche l'altra volta ci ho pensato ma l'abbiamo lanciata comunque la lancia ne sono convinto giusto curiosità siamo a cinque ma cinque di questo livello o cinque no è impossibile cinque in generale ok calmo vai più avanti bravo ok ok maledizione ok vabbè questo non l'abbiamo preso ma non fa niente vedi scusami da questa distanza lo lanci dall'altro dove eravamo praticamente davanti la tizia con la pistola no oh cacchio sei inceppata la pistola sei inceppata tarzan questo livello però ce l'abbiamo fatta senza troppe difficoltà certo che me ne andrò dalla giungla caro il mio primate ma mi trascinerò dietro te e la tua compagni ma che stronzo è stato bravissimo c'è riuscito a fregare con le liane miseria abbiamo ancora l'esemplare femmina e tu ci guiderai dove hai visto la donna scimmia l'ultima volta cimitero degli elefanti è morto ma quanto è grosso rendere tutto l'avorgio che vuole quando avrò una donna scimmia che poi non è una donna scimmia è una ex scienziata che si è trasferita qui per scoparsi l'uomo scimmia lo scontro con i coccodrilli ma perché si voglio dire grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti